ben ritrovati amici di yokawatch italia finalmente siamo al primo vero gameplay di wibble wabble avevamo detto che in questa in questo episodio arriveremo almeno fino a jibanian vi faccio vedere nel frattempo il video introduttivo del del gioco che l'altra volta non ve l'avevo mostrato e vi dico già che io avevo già giocato appena era uscito in giappone e poi l'ho disinstallato per dedicarmi ai titoli sul 3ds mi son dimenticato come si gioca quindi vediamo un po mi ricordo che c'erano le news che ok entriamo conferma nelle news ci dicono gli eventi qui siamo ancora a quando whisper ci dice cosa dobbiamo fare va bene dai iniziamo col col primo stage comunque non mi ricordo se quotidianamente o ogni tot giorni escono degli eventi dove si possono catturare determinati yokai o ricevere delle monete o non lo so oggetti non mi ricordo veramente ok iniziamo con pedezoma vedete bisogna fare come in quasi tutti i giochi android bisogna fare determinate cose determinate quest che ci sbloccano le varie stelline per poter andare avanti nel gioco ok noi possiamo fare ci sono le sole le anime in alto e sono determinate partite che possiamo fare no non mi ricordo non mi ricordo più o meno come si giocava quindi possiamo unire tutti gli yokai per farne uno più grosso e potente no è un po' scomodo giocare con il mouse ragazzi ok poi c'è chi chi non li fa ingrandire quali yokai eh le bolle di yokai ma continua a farle scoppiare così ma lo da continuare a fare dei danni velocissimi però poi dipende dalle strategie credo più più fai lo yokai grande prima tu riesci a fare la soulmate l'energy max del determinato yokai che è in squadra ovviamente questi sono gli yokai che non ho ma mi ha dato credo qui tre stelle va bene vediamo inbox menu ah ok ok friend profile niente news non sistema il mantenimento non ci interessa oh cavolo come scomodo tornare indietro no your chance to be free normally a ok puoi in questo momento puoi diventare amico dei dei boss interessante vediamo se riusciamo ad arrivare subito a qualcuno però prima dobbiamo catturare oggi bagna in fretta io vi invito a spolliciare in su e iscrivervi ragazzi iscrizione spolliciamento per andare avanti con questa serie no non mi interessa si sono sicuro sono sicuro ah questa è la vita scusate se ogni tanto mi mi muto ma sono intento a giocare se se avete qualche consiglio da darmi dato che sicuramente giocherete da più tempo rispetto a me scrivetemelo pure nei commenti o sulla pagina facebook magari se riuscirò farò un una pagina dedicata anche sul sito yokai watch punto it vediamo vediamo oppure se qualcuno vuole darmi una mano ben accetto il suo aiuto io sono da solo a lavorare quindi scrivetemi pure in privato anche qua nei commenti che più siamo meglio è abbiamo abbiamo sbloccato il fever time fever time se non ricordo male dove ti aumenta il danno di ogni yokai che dura tipo una decina di secondi andiamo subito siamo super vicini dam cap siamo subito qua dietro a gibanian ah sono due qua no non mi interessa dobbiamo prendere gibanian subito caro whisper questo non mi ricordo come si chiama questo yokai è un bel casino eh oh cavolo ecco il fever time no abbiamo spostato tutto qua perché 41 monete in questo gioco c'è anche la possibilità di usare il crank key lo slot key lo slot kai scusatemi dove si possono trovare yokai rari super rari forti o meno forti noi siamo abbastanza sfortunati quindi troveremo tutti rango e debolissimi come sempre come nel gioco sul 3ds dai piccolo jack si no 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 ogni volta lo devi dire si va bene comunque raccontatemi le vostre tecniche di gioco che sono interessati devo recuperare tutto non mi ricordo molto c'è regent che mi ha consigliato di ricominciare a giocarci e lo sto facendo praticamente con voi in diretta senza tagli magari un giorno lo farò anche in live su twitch se se vorrete creeremo un profilo dai che tra un po' c'è il fever time dai ci manca poco all'attacco di jibanian abbiamo quasi caricato il fever time allora qui ingrandiamo tutto eccolo dovevamo caricarli prima porca miseria dai che è quasi morto morto poverino no è quasi esausto con questa ok abbiamo finito e adesso diventerà il nostro amico il carissimo jibanian speriamo outstanding 52 monete abbiamo ricaricato l'energia ok oh let's be friends e abbiamo jibanian benvenuto benvenuto nella big family jibanian benvenuto in yokai watch italia va bene ecco come primo vero episodio direi che ci siamo scrivetemi nei commenti se volete vedere il resto della storia o solo gli sbustamenti nella slot kai per vedere se troviamo qualcuno di raro iscrivetevi al canale visitate yokaiwatch.it la pagina facebook comunque vi lascio tutto in descrizione alla prossima vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto